Buongiorno, sono sempre io, Matteo. Benvenuti al secondo appuntamento Noi Leggiamo. Oggi vi voglio raccontare di un libro elementare, semplice, ma a me è piaciuto molto, carino. È L'Ikabok di J.K. Rowling, l'attrice che è diventata famosa per il libro di Harry Potter. Questo libro è molto semplice e elementare, lo consiglio a tutti, bambini, ragazzi, adulti, per immeggersi in una fiaba particolare. Si tratta di un regno che si chiama Cornocopia, dove il sovrano è Teo il Temerario e le sue giornate passano da un banchetto a una battuta di caccia, a quei suoi amici Lord, Scaracchino e Flappone. Alle loro orecchie un giorno giunge una voce in cui una leggenda narra di un mostro feroce che potrebbe attaccare il loro regno. A voi scoprire se il mostro esiste o meno. Buona lettura. A voi scoprire se il mostro.